Perché papà Giorgio non ti permette di andare al cinema? Non lo so, non l'ha mai detto. Scommetto che i miei me l'avrebbero permesso. E dove sono i tuoi? Sono morta quando ero piccola, ma papà Giorgio e mamma Gina sono i miei padrini, così mi hanno adottato. Sono molto carini per tutto. Eccetto che per il cinema. Mi fa dimmi forse, fatti continuo al cinema. Mi ha raccontato anche la prima volta che c'è andato. È entrato in una sala completamente nera e su uno schermo bianco è comparso un razzo. Che poi è andato a finire dritto dentro l'occhio dell'uomo della luna. Gli si è conficcato dentro. Sul serio? Dice, diceva. Che era come vivere un sogno in pieno giorno. ci andavamo per non pensare a mamma, alla sua mancanza. Era il nostro posto speciale. Penso molto a lui, vero? Di continuo. Anna, ma tu dove abiti? Là giù. Mio zio mi ha insegnato a far funzionare gli orologi e continuo a farlo. Forse un giorno tornerà, ma non ne dubito. Non hai paura che qualcuno lo scopra? Finna che gli orologi funzionano e nessuno mi vede. Sì, naturale. Come? Continuo a parlare, sì naturale. Ma perché? Come suono adesso? Continuo a parlare. Cilla d'ipudi. Infor Brussels. Si, nel videointero mio voglia, Anche poi.